Ciao a tutti! Desidero condividere con voi le funzionalità di un ipotetico portale, a cui ho dato il nome di Fantasia Cancelletto Italia Volontaria. L'idea di fondo è che si possibile, in maniera semplice ed efficiente, mettere in relazione Stato e cittadini sul tema del volontariato. Questa è una bozza di progetto, non troppo approfondita. Riconosco le innumerevoli difficoltà e vizi legali, procedurali che è necessario normare per rendere utilizzabile il servizio. Non vuole essere questo l'argomento del video ma mi auguro che promuova dinamiche ed idee atte a migliorare la condizione di chi necessita urgente supporto. L'idea in breve, immaginiamo che a seguito di un malaugurato evento sia possibile gestire le persone e le risorse attraverso un programma che organizza e smista a seocno dello scenario le persone volontarie. Coloro che desiderano offrire il proprio tempo, la propria forza lavoro devono solo rendersi disponibili nelle date che preferiscono e verrà assegnato loro un compito utile in quel momento. Verranno seguiti dal viaggio, all'attività di volontariato fino a gestire loro il vito ed alloggio, se richiesta. In questo modo potrebbero velocizzarsi organizzazione e attività di supporto per i cittadini colpiti da calamità o incidenti. Il tutto per promuovere la trasparenza, l'efficienza e la legalità nel fornire assistenza alle persone in situazioni di emergenza. Tutto questo perché la necessità è coordinare. Un'organizzazione efficace può ottimizzare le risorse e ridurre i tempi di intervento. Le problematiche si possono dividere in due aree. Per i cittadini volontari. Dove andare o viene detto loro dove andare e a fare cosa. Quanto stare o viene segnato per quanto tempo è necessario un aiuto con range di giorni massimi. Come arrivarci o viene organizzato il viaggio con orari di pullman, navette. Dove dormire o in base alle persone che accettano il servizio da volontari può essere fornito un servizio di alloggio evito così che i volontari non siano lasciati allo sbaraglio. Per lo Stato. Far cooperare le risorse dei comuni, la protezione civile, associazioni volontari del posto, vigili, ecc. Efficientare le risorse, assegnare compiti precisi ed operatori ed organizzare numericamente le risorse. Suddividere le risorse per profilo. Attività fisiche che richiedono forza con altre attività magari più leggere di tipo organizzativo. Attrezzare le risorse, pala. Picco. Dispositivi protezione individuale. Organizzare trasferte vito alloggio, questo penso che sfruttando i servizi statali. Candidarsi come volontario, i passaggi. Se sei interessato a diventare un volontario di Italia Volontaria, il processo è semplice. È sufficiente scaricare l'applicazione sul tuo smartphone o accedere da PC, creare un profilo, magari utilizzando Speed per un'identificazione certa, e indicare le tue competenze, disponibilità e preferenze di aiuto. Si potrà avere accesso alle opportunità di volontariato disponibili, magari filtrabili per gravità o distanza dal punto di partenza. Qui un modello, immagine di un'ipotetica schermata dell'applicazione. Dove dal mio profilo vedo le eventuali richieste esistenti in quel momento ed ho la possibilità di candidarmi. L'ente organizzativo conferma la mia presenza ed il cittadino visualizza info in merito al viaggio da affrontare, in auto privata o con i mezzi pubblici quali treno inter-siti regionali. Indicazioni del responsabile a cui fare affidamento sul posto ed eventualmente l'alloggio assegnato. Il tutto verrà attuato in collaborazione con i comuni che mettano a disposizione strutture per alloggio e vitto ai volontari, garantendo che abbiano un ambiente confortevole durante il loro periodo di impegno. Organizzazione statale L'organizzazione statale svolge un ruolo cruciale in Italia volontaria. Gli amministratori statali definiscono le aree che richiedono assistenza e specificano i tipi di competenze necessarie. Coordinano le risorse e monitorano lo stato degli aiuti in tempo reale per garantire una risposta efficace e tempestiva alle emergenze. Verifica attiva delle presenze dei volontari Questo garantisce che coloro che si impegnano a offrire aiuto siano effettivamente presenti e coinvolti nelle operazioni di aiuto. Attraverso un sistema di registrazione giornaliera, motiviamo i volontari a rimanere impegnati e garantiamo la qualità e l'affidabilità del servizio. Sarebbe possibile verificare la presenza ad inizio e fine attività di volontariato, da parte di un responsabile della squadra, tramite la scansione di un QR code generato da Italia volontaria. Pensare in grande, Europa volontaria un sistema del genere è facilmente replicabile ed integrabile con altri paesi. Grazie per avermi dato l'opportunità di presentarvi la mia idea di Italia volontaria.